Prima di cominciare a correre, ne approfitto di questo bel paesaggio, guardate che bello, guardate, guardate, ok? Quindi prima di cominciare a correre voglio fare con voi due o tre ragionamenti. Allora, noi stiamo prorogando poteri speciali al governo, ovviamente non è che lo hanno chiesto, lo hanno deciso, lo fanno, punto e basta, ma la domanda di fondo è a quale governo, a chi stiamo dando questi poteri speciali? A gente che finora, non dico che le ha sbagliate tutte, ma ne ha sbagliate direi l'85%, e si ritroverà con un paese che a breve inizierà a ribollire. Forse per questo vogliono lo stato di emergenza, forse per questo vogliono impedire delle manifestazioni di massa, perché quando poi la gente si incazzerà e sarà disperata, vedrete che cosa faranno, schiereranno l'esercito, quell'esercito che per ora non sono in grado di schierare di fronte alle bande che si menano nei centri cittadini, bande che si scazzottano facendo anche morti, bande di italiani e di straniere uguali sono bande, bande di persone che stanno in qualche modo controllando i territori delle città al posto delle forze dell'ordine. Quindi se io sento che vogliono varare delle disposizioni di sicurezza e vorrebbero dare poteri speciali, adesso sento l'ultima trovata di Bonafede della Lamorgese, il DASPO sui locali, no, dovrebbero assumere più personale nelle forze dell'ordine, perché non ce la fanno, c'è bisogno di più personale nelle forze dell'ordine e le forze dell'ordine devono fare le forze dell'ordine, e quindi se si ritrovano in mezzo ad una rissa nel centro della città o ai margini della città, nelle periferie della città, devono poter utilizzare i poteri delle forze dell'ordine, cazzo, e quindi anche lo sfollagente che in italiano si chiamerebbe manganello, perché se quelli si menano, si pestano, si pigliano a cinghiate, le forze dell'ordine utilizzano la forza pubblica e quindi anche il manganello, altrimenti hanno paura, ma siccome lì dentro ci sono tutti questi di sinistra, tutte anime fighette, dicono, oh no, polizia fascista, no, o la forza dell'ordine fa la forza dell'ordine e quindi usa la forza pubblica, oppure quegli altri faranno quello che vogliono e diventano padroni, queste bande di criminali, di tempisti diventano padroni delle città. Punto primo, punto secondo, perché dico il ribollire del paese? Il ribollire del paese sta perché fra un po' la cassa integrazione finisce, cominceranno le aziende a licenziare perché non ce la faranno più, nelle famiglie ci sarà un posto di lavoro disponibile, un contratto, che se lo contenderanno i genitori con i figli. Pensa che bella società che stiamo costruendo, dove in famiglia devono quasi, litigare o essere in conflitto per un contratto, per un posto di lavoro, perché le aziende licenzieranno. Poi ci ritroviamo che il 15 d'ottobre le banche ricominceranno con le riscossioni, sono già pronte, 9 milioni di cartelle e quindi vedrete pignoramenti, vedrete che capannoni, case verranno tolte alle famiglie, ai piccoli imprenditori che se erano in sofferenza un mese fa, due mesi fa, è un po' difficile che adesso possano rientrare dalle sofferenze bancarie. Ma questo qui è mica il problema del governo, figurati. Il governo deve pensare a come rispondere all'Europa con il MES. Non vedono l'ora di appioppare il MES. Siccome ci hanno raccontato una serie di cazzate sul Recovery Fund, che forse non arriverà perché altri parlamenti hanno deciso di non approvare il Recovery Fund e quei parlamenti vogliono appioparci il MES perché qualcuno, Gualtieri, si era già impegnato sul MES molti mesi fa, adesso il MES ce lo vogliono appioppare. Quindi Recovery, MES, SURE, tutta roba che di fatto dà la possibilità ai creditori privilegiati di decidere sulle sordi del debito pubblico italiano e sulle scelte politiche. I tagli al welfare, il tagli alla sanità, il tagli alle pensioni, perché pensate, abbiano già cominciato da quota 100, semplice, per mandare un messaggio a quelli lì e dire guardate che noi tranquillamente taglieremo le pensioni, taglieremo tutto quello che ci chiedete di tagliare, ma dateci un po' di soldi, dateci un po' di soldi, perché altrimenti non sappiamo come andare avanti. Quindi questo governo, che è un governo incapace, succube dell'Europa, altro che poteri forti, è un governo succube dell'Europa, è lì che in ginocchio chiede un po' di soldi. Ora che siano i soldi del ricovero, i soldi del MES, comunque chiedono un po' di soldi. Altro discorso, e chiudo, quello dell'aumento dei contagi. E sicuramente ora esce fuori il discorso della scuola. Oh, ci voleva tanto quando dicevamo che l'hanno sbagliata completamente, hanno sbagliato completamente l'approccio sulla scuola. Adesso comincieremo a vedere i risultati, perché invece di impegnarsi su banchi, banchi a rotelle, banchi senza rotelle, mascherine, stocche di mascherine nelle scuole, mascherine che io lo sto vedendo, lo vedo ai miei figli, sono mascherine ridicole, ridicole, avrebbero potuto tranquillamente sanificare gli ambienti scolastici. Si può fare, ve l'ho fatto vedere con un video, certo che si può fare, ma siccome abbiamo un governo di incapaci, che non sono neanche capaci di ascoltare il mondo delle imprese, quelle vere, quelle che lavorano, allora cosa fanno? Mettono arcuri a capo della situazione emergenziale, e questo è il risultato. Perché bastava sanificare, sanificare gli ambienti scolastici. Per esempio la notte con i raggi ultravioletti, e poi le lezioni duravano 45 minuti, 48 minuti, fai uscire i ragazzi dalle classi, si risanifica quell'ambiente, sei minuti basta, bastano, e rientrano, dopo aver fatto ovviamente la sanificazione totale con l'azzeramento della carica batteriologica. Ma mica ci vogliamo mettere a pensare alle cose serie, ma è molto meglio dare retta a Lazzolina, all'Arcuri, a queste persone che il mondo si contende. Eh? Va bene. Adesso inizio a correre, mi sono un po' già sfogato. Ok? Ciao a tutti. Adesso. Ciao a tutti. Grazie.